ci saranno qui su questo schermo per sei giorni per sei notti e saremo in loro compagnia alieni creature zombie mutanti ultracorpi robot viaggi nel tempo e su mondi e pianeti lontani fino alla serata finale con l'Apocalisse buonasera e benvenuti al festival questa sera a trieste torna il sereno la capitale della fantascienza fino al 3 novembre con la 14esima edizione di trieste science plus fiction io ci sono tu ci sei loro ci sono ok divertimento ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.